Noi proseguiamo, andiamo a Pescara dove il sindaco Carlo Masci ha firmato nel pomeriggio un'ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado della città dall'8 al 16 febbraio prossimo. All'origine del provvedimento, ha fermato il sindaco, ci sono il rapido aumento dei contagi e soprattutto i dati forniti oggi dalla ASL. L'ordinanza impone in via precauzionale e cautelativa a far data dal lunedì prossimo 8 febbraio e sino al 16 febbraio prossimo la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado del comune di Pescara pubbliche e private per far eseguire alle istituzioni scolastiche una sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici. Alla base del provvedimento c'è la relazione odierna della ASL di Pescara che ha evidenziato, come già detto, un forte incremento di nuovi contagi.